E' stato presentato presso la sala Cenzato dell'Unione Industriale di Napoli il rapporto Aree Interne Campania, ricerca condotta dalla piccola industria di Confindustria Campania svolta in collaborazione con il Dipartimento di Economia dell'Università degli Studi del Sannio. Il volume di ricerca all'intento di analizzare il quadro economico, sociale e infrastrutturale delle aree interne della Campania per delineare le possibili politiche di sviluppo regionale, da poter adottare al fine di colmare i gap che caratterizzano i territori interni rispetto alle aree costiere e metropolitane e soprattutto generare attrattività imprenditoriale e sociale. I lavori sono stati introdotti dal presidente Confindustria Campania Luigi Trettino e dal rettore dell'Università degli Studi del Sannio Gerardo Canfora. E' molto importante perché affronta un tema nevralgico e strategico per la struttura sociale, demografica e industriale non solo della Campania ma anche di tutto quanto il Paese, di tutta l'Italia, perché il tema delle aree interne non è soltanto un tema precipico di questo territorio ma è tipico di tutto quanto il Paese e probabilmente nelle stesse proporzioni. Dalla nostra analisi esce fuori un tessuto che è sicuramente in forte difficoltà ma che nello stesso tempo presenta grandissime potenzialità di crescita per tutta una serie di fattori. Non ultimo il fatto che oggi siamo in piena epoca di trasformazione green e il Sannio presenta una serie di fattori di vantaggio da questo punto di vista, acqua, la presenza di vento e la presenza di competenze. La presentazione del rapporto è stata curata dal presidente Piccole Industria Confindustria Campania Pasquale Lampugnale. Ascoltiamo. Il rapporto sulle aree interne della Campania descrive una Campania a due velocità, una rappresentata dalle province sulla costa che crescono e si sviluppano e un'altra realizzata dalle aree interne della Campania e quindi dalle due province che abbiamo preso in esame, Irpina e il Sannio, che sono caratterizzate da indicatori economici che vanno molto peggio rispetto alle altre province e da un grandissimo spopolamento. Abbiamo perso negli ultimi sei anni 40.000 persone. Quindi l'obiettivo di questo rapporto è di mettere in luce e in risalto le opportunità che ci sono in queste aree perché all'interno della Campania queste sono aree in cui investire, ci sono zone industriali che rientrano nel perimetro delle ZES dove realizzare investimenti industriali, sono in corso di realizzazione importanti infrastrutture dal punto di vista ferroviario e stradale, c'è bisogno di recuperare il gap digitale ma soprattutto queste zone sono come dire piene di risorse naturali che potremmo in qualche modo utilizzare anche dal punto di vista della transizione green e quindi da parte delle energie rinnovabili.